Sì? Sto venendo via! Ho detto che cazzo! Sì! Passaggino di disegnazione Sì, però sto venendo via Sì, c'era un motore 8, uno guida Non c'era più Ce n'era un cazzato nero Comitato di motore 1 No, no, a batteria Ma come a batteria? No, è messa lì Ma il tappo viene? E sta, no Perché? D'accordo Oh Giorgio Abbiamo un problema Abbiamo un problema Vola così Eh, c'è una città da lì C'è una città da lì Ciao 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 a occhio alla batteria perché è una 2002 io posso parte un po' di anatomia e poi si è assalato quando erano i papà quel pennacchio ritto no 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 se non li Scott lo è giusto ti faccio il piede sono di crescere di chiusura da balda eh avviso vado cacca vado 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 ti faccio vado i toni all'estremo Sì, no? Sì, no? Sì, sì! Guarda, vedete il giro, questo è il giro. Questo comunque lo può fare con la cassa, con la pilla, con la cassa. Sì! Sì! Ah! Zwanzicino. Sì! Sì, non lo direi mai mangiare No, al momento è già scena per te No, no! L'ha fatto lui! E' lui il costruzione!